Vertice a Napoli, ieri tra l'assessore all'ambiente della provincia di Salerno Giovanni Romano e i rappresentanti del commissariato di governo e dei consorsi di Bacino. Al centro della riunione l'emergenza rifiuti e la riapertura della discarica di Serre. A partire dal 1 gennaio 2010, infatti, la provincia assumerà la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, mediante una società provinciale che l'assessore romano dovrà costituire con i poteri commissariali affidati qualche giorno fa dal premier Berlusconi. Gli uomini di Bertolaso, infatti, al 31 dicembre lasceranno la campania e la società costituita da Palazzo Sant'Agostino spetteranno tutti i compiti di trasferenza, trasporto e smaltimento della spazzatura, nonché la gestione degli impianti. Solo l'attività di raccolta dei rifiuti continuerà a far capo ai comuni. Così, a partire dal 2010, la discarica di macchia soprana Serre dovrà riaprire battenti per permettere di ospitare circa 130 tonnellate di rifiuti in vista dell'imminente saturazione del sito di Savignano Erpino. Nel frattempo, anche i poteri commissariali del sindaco di Luca potrebbero essere trasferiti all'assessore romano per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno. La decisione verrà presa in una riunione che si terrà a Roma insieme a Gianni Letta. La realizzazione del termovalorizzatore, afferma Romano, è fondamentale anche per garantire i posti di lavoro a tutti i dipendenti dei consorsi di bacino che verranno assorbiti dalla società provinciale. Inoltre, continua l'assessore di Palazzo Sant'Agostino, appliceremo la tariffa unica sui rifiuti che uniformerà i costi di trasporto e smaltimento su tutto il territorio provinciale.